Buonasera a tutti, da molto tempo che non ci vediamo, non ho mai fatto due dirette tanto ravvicinate, ma c'era bisogno perché la Bibbia parla di pazienza ma dice anche la pazienza di Dio non è infinita, quindi figuratevi la mia, durata tre anni e mezzo, un numero che ci ricorda tra l'altro il ministero di Gesù, adesso la pazienza è finita e qualcuno si prenderà la responsabilità davanti a un tribunale monocratico di tutto quello che si è divertito a dire in questi tre anni e mezzo. Comunque, mi serve una mentina per farmi la bocca, Virgilio dice in una sua opera bellissima, Paolo Maiora Canamus, cioè adesso dai cantiamo qualcosa di più grande, un po' cose un poco maggiori, dedichiamoci a cose più importanti, ciao Cecilia, ciao a tutti, dedichiamoci alla parola di Dio, aspettiamo un attimo che ci siano dei collegamenti, ciao a tutti, Rosanna, Vanessa, Stefania, Anna, vi saluto tutti, Donatella, Cristina, Pina, Tiziana, ciao sister, come on, Barbara, ciao a tutti, sarei troppi, non riesco a leggere, ma intanto vi presento, mentre vi collegate, quello su cui desidero fare la diretta. Ho fatto un po' di tempo fa, anche abbastanza recentemente, degli studi, delle riflessioni sul cantare, sul pregare in lingue, ma in Italia siamo molto fantasiosi, io credo che quando in Italia creiamo delle cose così fantasiose, il diavolo prenda appunti, perché nemmeno lui arriva a tanto, e l'ultima che ho sentito è che cantare nello spirito sarebbe una cosa new age, bellissima questa, sì lo so, ve la ripeto perché merita, che cantare nello spirito sarebbe una cosa new age, ciao Giovanna cara, e qualcuno so che va a dire in giro, ah Biancalana è pericoloso perché lui fa cantare in lingue che è una cosa new age, no, la cosa che mi stupisca, che mi stupisce è che le persone che mettono in giro queste voci, che tra l'altro sono anche responsabili di comunità, non lo facciano, è questo che mi stupisce, comunque facciamo un po' di chiarezza. Dunque, è vero, esiste, soprattutto nell'ambito della new age, ma non soltanto, ma comunque diciamo nell'ambito new age, una sorta di canto corale che ha vagamente a che fare, che può ricordare il cantare in lingua, il cantare nello spirito. E qualcuno dice, vedi allora subito, eh beh, quello è una cosa new age. Ora, non credo di poter essere ti attacciato di insegnare cose new age, anche perché muovendomi nell'ambito della liberazione ho piuttosto chiaro, per aver fatto decine di volte di liberazione su persone che venivano da quegli ambienti che l'ambiente new age, il new age movement, chiaramente è un movimento sincretista che niente a che vedere con il mondo cristiano. Attenti però, c'è un distinguo da fare. Il fatto che Satana scimmiotti le cose originali che Dio fa, perché Satana non può, ciao Carlos, Satana non può creare niente, perché non è un Dio malvagio che ha il potere di creare. Sì, esatto, Angelo, neanche Satana, ti ho detto, Satana quando sente queste cose prende appunti. Satana non ha il potere di creare, ma l'unica cosa che può fare è imitare, scimmiottare, alterare, distorcere ciò che Dio fa di originale, ciò che Dio crea. E, beh, non solo Satana scimmiotta il dono delle lingue, non solo. Scimmiotta, ad esempio, il dono della parola di conoscenza. Chiunque è stato da un mago o da uno stregone può aver sperimentato che i maghi hanno dei doni, che ovviamente non vengono da Dio, non vengono da Satana, di conoscere in modo sovrannaturale delle cose. Ti dice cosa ti è successo nel passato e questo è un dono contraffatto della parola di conoscenza. Satana può ispirare delle false profezie, che non è altro che alterare, scimmiottare quello che Dio fa attraverso lo Spirito Santo con il dono originale. Allora cosa facciamo? Non profetizziamo più, non usiamo più la parola di conoscenza, non preghiamo più in lingue, perché siccome Satana li scimmiotta, capite che ci vuole, io dico sempre, anche un po' di sale nel cervello. Cosa che mi pare che in Italia, che il cervello ce l'abbiamo buono, perché insomma abbiamo dato, credo, abbastanza al mondo nella storia, sia in cultura che in sapienza che in scienza, che in Italia il cervello ce lo siamo fritto. E invece sarebbe bene che quando veniamo al Signore, lo Spirito Santo che ci vuole rinnovare la mente, non cancellare la mente, ma ce la vuole rinnovare, ci permettessimo a lui di ragionare. Perché a volte ci sono delle affermazioni di conduttori a cui io non farei condurre nemmeno un triciclo, comunque questa è la mia opinione. Ma non perché non sono in grado, ma perché veramente c'è un'ignoranza che si taglia col col coltello e che non è più possibile tollerare. Prima di parlare, di aprire bocca, si rendessero conto del danno che fanno. Perché aprire la bocca, dare fiato e fare del danno, ci vuole un attimo, poi recuperarlo ci vuole un sacco di tempo. Allora cerchiamo un attimo di fare un po' di chiarezza su questo. Io so che in Italia, non così nelle altre nazioni, grazie a Dio, non così. Ci sono delle chiese in tutto il mondo dove si canta e si adora nello spirito in un modo meraviglioso. Ma in Italia no, perché? Perché in Italia siamo religiosi, noi in Italia dobbiamo fare tutto con le nostre forze e non c'è ancora purtroppo in tante realtà quell'apertura allo Spirito Santo. Comunque la mia non vuole essere una polemica, vuole essere una cosa di esortazione, non polemica. Quindi mi taccio subito. Ma voglio dirvi qualcosa su questo. E vorrei partire dalla scrittura. Quindi se avete la Bibbia, per favore, facciamoci compagnia a cinque minuti e prendete la Bibbia con me nel Vangelo di Luca, il capitolo 11. Vangelo di Luca. Ripeto, l'argomento è cantare in lingua è una cosa new age. Io mi chiedo se queste persone, questi signori e queste signore hanno mai letto la scrittura. Qui non c'è nemmeno bisogno di andare tanto sui testi originali, ma basta, sì, tabita, proprio pura, allo stato puro. Allora prendiamo il Vangelo di Luca dove Gesù parla del dono dello Spirito Santo. In Luca, capitolo 11, Gesù ci dice qualcosa di molto chiaro che già da solo dovrebbe bastare a chiudere la questione. Al verso 9. Luca, capitolo 11, verso 9. Se avete la scrittura, seguitemi così potete controllare se quello che vi leggo della scrittura o no, o me lo invento io. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede e riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. È chiedete, cercate, bussate. Sono tre verbi che iniziano per tre lettere. Alfa, sigma, kappa. Se prendiamo l'acrostico viene scritto ask, che nel greco di oggi, cioè la lingua universale di oggi, che è l'inglese, vuol dire chiedi. Sono delle cose bellissime nella Bibbia, sono delle cose incredibili. Questi tre verbi iniziano con chiedere e inizia con alfa. Cercate, inizia con sigma, perché è zeteite, zeteite, sigma. Scusate zeta ma si pronuncia s, perché è seguito da una occlusale sorda, quindi diventa z. E poi il quarto, il terzo verbo, inizia con la kappa, quindi viene ask, chiede in inglese. Comunque al di là di questo. Perché chiunque chiede e riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Attenti al verso 11. Chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia un scorpione? Attenti, pietra, serpente e scorpione. Notate questo. Serpente e scorpione sono due dei simboli di Satana. Pietra è il simbolo della legge. Notate come vengono messe da Gesù accanto, non perché la legge è satanica, la legge è di Dio e la legge è perfetta, ma perché il motivo del peccato diventa lo strumento che Satana usa. Infatti la forza del peccato, dice Paolo in 1 Corinthians 15, è la legge. Comunque, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quello che Gesù sta dicendo è, se tu chiedi al Padre lo Spirito Santo, che è una cosa buona come un pane e un uovo, Lui non ti darà un serpente e uno scorpione, cioè non ti dà uno spirito maligno. Se tu chiedi al Signore di essere battezzato nello spirito e di cantare e pregare nello spirito, Lui non ti dà uno spirito medianico per cantare con il New Age Movement. Quindi se chiedi lo Spirito Santo, il Padre ti dà lo Spirito Santo, non ti darà uno spirito maligno. Questo già dovrebbe fugare un po' di dubbi, ma comunque. Andiamo invece in due passi in cui Paolo parla, chiaramente, ne parla anche in un altro, dopo lo vedremo, del cantare nello spirito. Cominciamo da Efesini 5,19. Lettera di Efesini, Galati, 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 Efesini. Capitolo 5, verso 19, dove Paolo dice così, dal verso 18, non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Questo siate ricolmi nel verbo originale è un verbo continuativo che indica continuamente siate ripieni di Spirito Santo. E poi dopo dice come? Non ci si riempie dello Spirito Santo dicendo viene Spirito Santo. Ci si riempie dello Spirito Santo perché quel parlandovi, il valore di questo verbo è un valore strumentale, cioè indica per mezzo del parlarvi con salmi, inni attenti, cantici spirituali. Spero che qualcuno che va a dire in giro che Biancalana fa cantare in lingue come il New Age mi segua e si diruzzi un pochino perché poverino, perché non è possibile una roba così. Qui si sta parlando della lettera degli Efesini, non siamo su un passo oscuro o un versetto strano del libro dell'Ecclesiastica, qui siamo gli Efesini. Canti spirituali. Questa parola nel testo originale sarebbe canti pneumatici o canti carismatici o canti ispirati dallo Spirito. Poi dice cantando, attenti, e salmeggiando che sono due cose diverse. Cantare è una cosa, salmeggiare è un'altra. Cantare è quello che noi facciamo quando cantiamo canti. Cantare canti bellissimi come cantiamo nelle nostre assemblee, bellissimo. Ma salmeggiando non vuol dire cantare salmi perché qui il verbo originale in greco è psalein. E il verbo psalein ve lo prendo direttamente così non ci metto neanche di mio. Dal vocabolario rocci di greco, psallo vuol dire, ascoltate, di strumenti musicali. Tocco, faccio vibrare con le dita, arpeggio sulla corda, salmeggio. Non ha a che fare con il cantare, ma ha a che fare con l'arpeggiare. Ascoltate, il psalein etimologicamente dal greco vuol dire con le dita toccare una chitarra. Questa ad esempio è una chitarra, se riesco a prenderla senza smontare lo studio. Ok? Questa è una chitarra. psalein è questo. Ora è scordatissima perché non la sono da un po'. Questo è psalein. Non è cantare, è arpeggiare. Questo canto indica, se lo volessimo tradurre in maniera consola in italiano, salmodiare o cantillare. Cioè qualcosa di molto dolce, molto semplice, come arpeggiare su una corda. E perché, state attenti, si parla della corda? Perché nel culto ebraico noi sappiamo che gli strumenti a fiato non avevano accesso all'interno del tempio, ma soltanto all'esterno. Perché il fiato, le trombe ad esempio, avevano a che fare con la lode. Infatti il corno, la tromba erano strumenti di lode. La lode la fai attraverso l'anima, il corpo. Ma nel tempio, soprattutto nel luogo interno che rappresenta il nostro spirito, la parte interna del tempio che siamo noi, hanno ammessi soltanto gli strumenti a corda. Perché le corde hanno a che fare con il cuore. E non a caso, in latino, cuore si dice cordem. E toccare le corde vuol dire, nel significato più interno, come se lo Spirito Santo, con le sue mani sante, ascoltate, toccasse le corde del nostro cuore e ne tirasse fuori un arpeggio. È qualcosa del tipo Al punto che gli esperti di musica antica e sacra ci dicono che da queste melodie dei canti spirituali nacque il modo di fare musica, uno dei più belli che la cristiana d'età ha avuto, che era il canto gregoriano. Se, ad esempio, prendete un bellissimo inno allo Spirito Santo che è il Veni Creator Spiritus, Vieni Spirito Creatore. Veni Creator Spiritus. Sentite? Veni Creator Spiritus. O inene ne ne coli adena. A questa melodia vagamente semplice, orientale, spirituale, che richiacca, non ha nulla a che fare con la musica New Age. Non c'entra niente. Quello è uno scimmiottamento diabolico di quello che Dio fa di meraviglioso nello Spirito. Allora, in Efesini 5,19, si parla del cantare nello Spirito. C'è un altro passo, Colossesi, capitolo 3, verso 16. Mio Dio, Signore, pietà. Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate con il cuore a Dio. Ascoltate. Non vuol dire con il cuore, in senso romantico, partecipando con il nostro cuore, no? Vuol dire cantate con il cuore. Cioè cantate con il vostro spirito interiore. Addio sotto l'impulso della grazia. Non a caso i carismi dello Spirito Santo, tra cui le lingue, si chiamano carismi, in prima Corinzi 12, perché caris vuol dire grazia, in greco. Quindi sono i doni della grazia. È la grazia che ti spinge a profetizzare. È la grazia, è lo Spirito che ti spinge a cantare a Dio. È lo Spirito che ti spinge a interpretare. È lo Spirito che ti spinge a profetizzare. È lo Spirito che ti ispira a parole di sapienza. È lo Spirito che ti ispira a parole di conoscenza. Ma queste dovrebbero essere le basi. Invece siamo ancora qui a dover chiarire cose che dovrebbero essere la vita quotidiana dei credenti e delle chiese. Attenti. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia salmi, inni e di nuovo cantici spirituali. Di nuovo. Ancora canti pneumatologici. Canti carismatici. Canti nello Spirito. Che cosa sono questi canti nello Spirito? Basta andare un po' più indietro. In Prima Corinzi, capitolo 14. Prima Corinzi, capitolo 14. Noi credenti del Nuovo Testamento dovremmo conoscerlo come il manifesto della nostra vita di preghiera. Invece c'è un'ignoranza. Anche questa si taglia col coltello dalla parte del mano. Capitolo 14, verso... Quindici. Prima Corinzi, capitolo 14. Lo so che il mondo non può capire, Lidia, ma io non sto parlando del mondo, sto parlando della Chiesa. Che il mondo non lo capisca, Lidia, è normale. Che le guide della Chiesa non lo capiscono, è preoccupante. Che dunque pregherò con lo Spirito, cioè pregherò in lingue nuove, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò. Ve l'ho letto prima cosa vuol dire psallo. Salmeggerò con lo Spirito. Non so come si fa a dire che Walter Biancalana si inventa delle robe e le porta in giro come cose strane. Salmeggerò con lo Spirito. Salmeggiare con lo Spirito non vuol dire... Non è questo. Non è questo. È una cosa molto dolce, come un soffio. Sono semplici suoni ispirati dallo Spirito, dove si lascia andare. Non sei tu che canti, è lo Spirito che ti ispira e canta in te. Ma voglio farvi vedere, attenzione a una cosa, seguitemi qui. In Isaia 40 c'è un'immagine di questo bellissimo, è un passo che tutti conosciamo, su cui ci sono dei canti bellissimi, uno dei passi più famosi nella Bibbia. Isaia 40, verso 29-30. Isaia 40, verso 29-30. Tutti lo conoscete questo passo. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore, la traduzione esatta dall'ebraico sembra essere quelli che attendono il Signore, acquistano nuove forze. State attenti a questo distico, state attenti a questi due versetti. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Ascoltate. Di solito l'umano prima si cammina e poi si corre. Invece qui Isaia dice l'opposto. Dice, prima corrono e poi camminano. Perché? Perché quando entri nella dimensione dello Spirito, vivi questo. Inizialmente sei tu che preghi. È come se tu corressi con le tue forze. Sei tu che canti, sei tu che preghi. La lode, no? Nella lode si canta, si salta, si balla. Poi a un certo punto si rallenta. Non è che si rallenta perché si fanno i canti più lenti. Ascolta. Nota che Isaia dice, prima corrono e poi camminano. Perché prima sei tu che preghi. Prima sei tu che lodi. Prima sei tu. Ma a un certo punto, quando è l'unzione dello Spirito che entra, in un certo senso è come una barca che va a motore, a un certo punto riesce a entrare nella corrente del vento, spenge il motore, apre la vela e riposa. Quando ci sono momenti di culto in cui si prega insieme, dopo che si è ballato, che si è caltato, che si è cantato, poi dovrebbe venire il momento dello psalein. E poi vi dirò una cosa sul pregare in lingue. Lo psalein non è cantare. Psalein è cantillare, arpeggiare. Si dovrebbe passare dal correre con le nostre forze a rallentare, aprire le vele e lasciarsi guidare dallo Spirito. Lì inizia il canto in lingue, dove non sei tu che canti. Ma sei tu che apri la vela, perché il canto sgorghi sotto l'impulso della grazia, dice Paolo. Non sei tu. Sì, noi possiamo cantare in lingue, è l'unico dono che è a nostra portata di mano. Ma cantare nello Spirito è un'altra cosa. È rallentare, entrare nel tempo in cui è lo Spirito che ti guida. Io a volte, nel mio tempo di preghiera personale, quando posso arrendermi finalmente, lasciare che sia la grazia a guidarmi, senti che è talmente facile, talmente riposante, che non vorresti fermarti più. E a volte dico, devo smettere, ma vorrei continuare a cantillare, a salmeggiare, a cantare al Signore sotto l'impulso della grazia, perché non solo non ti stanchi, ma ti riposi. Infatti dice, egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che ha spossato. Ma che meraviglie! E pensate che triste, come planare, bravo Giorgio! Ma che triste che bisogna sentire delle cose che vanno a distruggere, le cose più belle, più sante, più regali, più sacerdotali del nostro essere in Gesù. Che triste! Quanto è l'ignoranza davvero distruttiva! E voglio dirvi un'altra cosa. E con questa chiudo. Voi sapete che in Isaia 28, già che ci sono lo prendo, quando si parla del pregare in lingue, è una profezia che Paolo riprende poi nella lettera ai Corinzi, dove dice, verso 11, ebbene sarà mediante labbra balbuzienti, e mediante una lingua straniera, ma prima della lingua straniera parla di labbra balbuzienti. E mi ha sempre colpito che l'immagine di Mosè e di Aronne in un certo senso ricorda il parlare in lingue e l'interpretare. Perché Mosè era balbuziente e Aronne era in un certo senso il suo interprete, no? Questa immagine del parlare in lingue, del balbettare e dell'interpretare da parte di Aronne. Mi ha sempre colpito questa immagine delle lingue con l'interpretazione. Infatti Mosè era balbuziente e si parla di labbra balbuzienti in Isaia 28. E dice, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. Voglio farvi vedere qualcosa. In Atti 2, ma non solo in Atti 2, ma qui è clamoroso, in Atti 2, quando si compie la Pentecoste e c'è il dono dello Spirito, lo Spirito viene sparso sui 120 nella sala alta, è scritto che, verso 3, apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. State attenti qui. Questo verbo non è il verbo che nel greco si usa normalmente per parlare. Parlare in greco si dice legein, all'infinito, lego, io parlo, al presente indicativo prima persona. A regola si dovrebbe utilizzare lego. Invece viene utilizzato un verbo particolare che è lalein. State attenti a questo verbo, ve lo prendo direttamente dal rocci. Il verbo laleo. Il verbo laleo vuol dire balbettare, cianciare. No, per favore, ascoltatevi. Per favore! Per favore, faccio un giuco a scasella, così mi dicono che sono uno strego. Per favore, seguitemi, ve lo chiedo per favore, poi vi mando andando. O a guardare la televisione. Seguitemi. Quando dice Luca in atti, cominciarono a parlare in altre lingue, il verbo non è lego, parlare, ma è laleo. Lalein, non vuol dire parlare, ve lo leggo dal rocci. Balbetto, ciancio. Cominciarono a balbettare in altre lingue. Questa è la traduzione corretta, esatta, di atti due. Che è un atto di balbettare, cioè sono sillabe. È un balbettare. Perché? Perché il primo uomo che Dio ha chiamato era un uomo balbuziente. Il primo uomo che Dio ha chiamato per parlare al suo popolo, liberato dall'Egitto, era un uomo balbuziente. E è mediante lingua balbuziente che Dio parla al popolo che non esce più dall'Egitto, ma esce dal peccato. Ascoltate. Dio tira fuori dall'Egitto il popolo attraverso la predicazione di un balbuziente. Come il popolo esce dal peccato per mezzo del sacrificio di Cristo, è mediante labbra balbuzienti che si comincia a manifestare il dono dello spirito. No, possono cambiare, Anna, le lingue. Cambiano continuamente. Io ne avrò cambiata. La mia sarà cambiata, credo, una decina di volte. Ormai intanto cambiano, cambiano le parole. Ma non va vissuta come un bambino. Non entrate in queste cose, ma vivetela come un bambino. Tutti cominciarono a parlare in altre lingue. è lalein, non è legein. E vuol dire a balbettare, a cianciare. Perché? Perché Dio usa le cose deboli per distruggere le forti. Quindi cantare in lingue è lalein in lingue, è balbettare cantando. È molto semplice. Tu sei arreso nella presenza del Signore e lasci che le sillabe più semplici, le melodie, non tue, ma che lo spirito ispira, escano dal tuo cuore. Molto lento. Molto lento. Non lo fate diventare qualcosa di duro. Lasciatelo semplice. Lasciatelo grazioso. Lasciatelo ispirato. Lo spirito ispira cose semplici. I canti più belli che io conosco sono semplici. Tre e quattro versi. Melodie semplici, ma hanno l'unzione di Dio dentro. Ho sentito dei canti ebraici. Dei canti ebraici meravigliosi. Vedo che c'è Daniele, che tu sia benedetto per quello che fai, Daniele. Ci sono dei canti ebraici dove sono due versi. Due versi. Che che Come il cervo anela le acque, così la mia anima anela a te, oh Signore. Basta, basta. La mentalità ebraica è una mentalità semplice, è una mentalità intrisa dalla sapienza di Dio e quando Daniele dice il Nuovo Testamento è in greco ma all'essenza dell'ebraicità è vero, il cantare nello spirito ha quel qualcosa di ebraico, non perché è una lingua ebraica, perché è una lingua spirituale, ma quella semplicità, quella sapienza che la musica e l'arte ebraica hanno in un modo meraviglioso, ma noi dovremmo tornare a cantare questo nelle nostre assemblee. E quando finisce questo psalein entopneumato, nello spirito, entopneumati scusate, nello spirito, normalmente iniziano i doni dello spirito santo a muoversi, perché cantare nello spirito predispone e muove lo spirito profetico. psalein entopneumati, cantare, salmeggiare, cantillare, balbettare nello spirito. Esatto, con la stessa, tra l'altro nel libro di Giobbe è bellissimo quando dice che Dio piazzò le stelle, lì il verbo, tu lo sai meglio di me, è qualcosa che ha a che fare quasi con il soffiare, è una cosa talmente meravigliosa, la mente di Dio è così semplice, armonica. È così stupenda che quando ti lasci possedere, sperimenti questo, gli altri vengono contagiati e noi dobbiamo recuperare il significato vero di ciò che sta scritto, perché noi abbiamo fatto dire con la nostra mentalità occidentale delle cose alla scrittura che la scrittura non ha mai detto. Pensare, tutti cominciarono a balbettare in altre lingue. Io mi ricordo una volta, nella mia comunità, io a volte lo faccio, cantai durante la predicazione un versetto di un canto di molti anni fa, un versetto, ma in un modo semplice. Si mosse lo Spirito Santo talmente forte che una sorella, mi ricordo dove era in prima fila, fu toccata e fu liberata. Cominciò a piangere subito, non riuscivo a trattenerlo, avevo fatto soltanto un verso di un canto. Ma le cose semplici, ispirate di Dio, hanno il potere di Dio, perché Dio è semplicemente artistico, è essenzialmente meraviglioso. Cominciarono a balbettare in altre lingue. E dopo che tu hai passato tempo a cantare, a pregare, cioè hai corso, poi devi cominciare a camminare. Cioè rallenta, chiudi gli occhi, alza le mani e lascia che lo Spirito ti porti a cantillare semplici balbettamenti con una melodia ispirata dallo Spirito, non da te. Impara a ricevere la melodia. Io quando sono stato battezzato spontaneamente nello Spirito, ho cominciato a cantare e io non ho mai sentito in vita mia una melodia più bella di quella, perché non ero io, ma era lo Spirito. Era qualcosa che l'arte stessa non riesce a renderlo. Ma noi dobbiamo recuperarlo, Chiesa. Noi dobbiamo recuperare la vera essenza delle cose di Dio, le cose meravigliose del Signore. Psalein, lalein. Cantillare, salmeggiare. Arpeggiare. Lo Spirito Santo è un artista. Lo Spirito Santo non viene sulla chitarra così. Lo Spirito Santo ha delle dita che toccano il tuo cuore e lo fanno diventare il più bello strumento, semplice. Se avete modo, andatelo a ascoltare quel bellissimo inno, Vene Creator Spiritus, in latino. Chiaramente non è una cosa biblica, ma quel Vene Creator Spiritus, ha questa modulazione tipica. E pensate che quando è scritto in Roletta Gli Efesini, credo sia, che noi siamo membra gli uni degli altri, quella parola membra, melos, è la parola da cui viene melodia. Noi siamo membra l'uno dell'altro, ma la traduzione greca è anche noi siamo armonia, melodia l'uno dell'altro. Perché quando cantiamo insieme, quell'armonia che crea un unico canto, ci unisce in un solo cuore. A volte pensiamo di dover fare unità, in realtà dobbiamo solo permettere allo Spirito Santo di realizzare l'unità che noi già abbiamo, perché Gesù ha pregato, perché noi fossimo uni. Noi abbiamo già quello, ma lo Spirito Santo lo vuole realizzare. Cantare in lingue porta questa dimensione dell'unità. E chiaramente il nemico non la vuole, e utilizza purtroppo spesso delle cose che hanno il fondamento non della grazia e della bellezza, ma dell'ignoranza. Ricordatevi queste poche cosette. Psalein, arpeggiare, lalein, non leghein. Cominciarono a lalein, a baldettare in altre lingue. Ed iniziò il più grande movimento di risveglio che la storia della Chiesa abbia mai conosciuto. Chiesa torna a sperimentare lalein. Io sarò a Napoli, non questo weekend, ma quello dopo. Ascoltate questo e avrò tre incontri in un giorno e mezzo. Più sei ore di viaggio a andare, sei ore di viaggio a tornare, e il sabato lavoro, quindi arriverò a Napoli cotto. Non garantisco che negli incontri di giovedì di Torre del Greco e di sabato mattina di Torre Annunziata riesca a amministrare, insegnerò. Sarò a Vedorino Montefusco, carissimo, in linea avrò l'onore veramente di poterlo conoscere, questo uomo che da tanti anni, di cui da tanti anni sento parlare. So che è un uomo di grazia e è un onore per me essere da lui. Ma nell'incontro che terrò quello pubblico a quarto, la sera della domenica, lì faremo un insegnamento sui doni spirituali, parlerò anche di questo Cantare nello Spirito, pregheremo per i doni spirituali e faremo un'esperienza di esercizio dei doni profetici, di guarigione, di lingue, eccetera. Quindi non ve lo perdete perché sarà... non so se riuscirò... perché ministrare culti di quattro ore tutte le volte quando arrivo a venervia sono distrutto. Ma sicuramente nell'incontro a quarto ci sarà un tempo di guarigione, un tempo profetico, un tempo di insegnamento e di ministrazione sui doni. Ciao Maurizio Bello. Vi affido questi passi, meditateli e fate delle esperienze. Sì, la potrete vedere. Fate delle esperienze di non solo pregare in lingue ma di abbandonarvi a cantare. Ricordate, quando il cuore canta diventa migliore, diventa più dolce e noi abbiamo tanto bisogno di diventare più dolci e più pieni di grazia nel corpo di Cristo. Amen? Io vi saluto, sono sforato un po' di tempo ma ci tengo tanto, ci tenevo tanto a condividerlo. Vi saluto a tutti, ciao a tutti i fratelli che sono stati insieme a noi e che Dio vi benedica e che la grazia riposi abbondante su di voi. Ciao.